Il Tribunale di Parigi ha condannato sette membri della presunta filiera jihadista di Strasburgo, appena comprese tra i sei e i nove anni di prigione. Tra gli imputati c'era anche Karim Mohamed Haggad, fratello di uno dei kamikaze del Bataclan, condannato a nove anni per avere preso parte ad addestramenti paramilitari in Siria. Credo che la decisione sia dovuta alla paura, dice la sua avvocata. Una Francia impaurita e una giurisdizione che vuole rispondere a questa paura e che non ha alcun margine di manovra. Tutti sappiamo questo e non ci sorprende. Karim ha certamente pagato per il suo nome, è stato il primo a essere interrogato, il primo a farsi carico della pubblica accusa durante le udienze. No, non siamo sorpresi per niente. Il fenomeno dei giovani europei addestrati in Siria come Karim Mohamed Haggad per compiere attacchi una volta tornati nei loro paesi, continua a preoccupare le autorità. Secondo il ministro dell'interno francese sarebbero tra 1.500 e 2.000 e il loro numero è in continuo aumento.